parliamo anche un po' insomma del tuo personaggio insomma che ti ha un po' lanciato anche su su netflix no che è appunto il samurai allora la prima domanda ovviamente come finisce su burra 2 si adesso te lo dico però no scherzo non ti preoccupare non ti voglio mettere in difficoltà no a chi ti sei ispirato però per il tuo personaggio del samurai per interpretare il tuo personaggio ma è naturalmente con con quello del primo sì 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 con i registi con la linea si si certo editoriale abbiamo mi hanno dato degli input su questi ho lavorato e ho individuato questa persona questo personaggio sobrio di formazione militare senz'altro che ha un suo cinismo come dire assoluto non molto ben predisposto verso il male e beh sì naturalmente 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 sì sì certo certo che che si chiude in questo suo strano mondo di risultati non di di etica e invece sebastiano di rocco schiavone un altro dei tuoi personaggi è molto diverso molto diverso un bel fuorilegge di quelli un amico fuorilegge casarecci diciamo sì sì anche per lì insomma ti ispiri tu ogni tanto vabbè ovviamente anche con l'aiuto di autori e tutti quanti però in generale tu nei due personaggi ti ispiri anche a delle persone che magari non conosci nel senso vita reale vita reale certo cioè una ecco tu prima parlavi di scaramanzia non è scaramanzia io spesso giro passeggio per per roma che è una lavoro su un'idea e poi naturalmente passeggiando guarda osservo le persone ci sono delle persone che che mi danno proprio il la per per cominciare a lavorare su una linea di personaggio questo dovrebbe fare proprio l'attore poi del resto no giusto ma questo fa assorbire tutto insomma tu ti senti più attuaggio nei ruoli di cattivo a volte pure sporco e cattivo oppure più in ruoli nei prati pochi diciamo l'altra parte dove si può più diciamo agire di leggerezza sono più come dire sono più piacevoli sono come dire sono sì insomma però non saprei dirtelo sinceramente perché sono un nivoro mi piace un po di provare tutto è tutto molto interessante io tra l'altro pensavo a te anche che hai recitato anche dogman di carrone di carrone non l'ultimo arrivato e quindi cani eccetera so che tu sei un grande appassionato anche di animali vero come mai c'è questa passione sempre ora ma cosa hanno gli animali in più degli esseri umani questa domanda è solo da quello sport ora entriamo nello sport sì certo e non hanno le sovrastrutture quindi hanno qualcosa in meno che però qualcosa in più non sono diretti sono 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 completamente diretti sono privi di qualunque sovrastruttura quindi non diciamo che sono migliori ma no non sono affatto migliori però sono ovviamente noi siamo siamo l'espressione più evoluta della natura per carità non è questo però con loro si riesce a instaurare un rapporto bello come con i bambini che sono creature si dice innocenti cioè sono ancora così allo stato puro è vero senti da romano che vive a roma giusto via roma insomma qual è la condizione della città di oggi sai c'è tanta polemica si parla tanto ci sono tanti problemi buche mondizia e via dicendo e roma resta sempre troppi problemi no se ne parla troppo troppo roma è sempre stata come dire maltrattata forse anche da noi romani e la politica è naturalmente responsabilità dei romani siamo noi che ci votiamo i nostri rappresentanti quindi lamentarsi della politica come un po far finta che noi non ci non c'entriamo nulla siamo noi che ce li portiamo è una città che ha che ha bisogno di di tanto lavoro e di tanta come dire concertazione che un termine che ormai è fuori moda però se ne esce tutti insieme non se ne esce più da questa condizione di di trascuratezza che veramente fa male al cuore perché poi appunto stiamo parlando di una città che la cui bellezza non viene fuori prorompe fuori nonostante noi nonostante l'immondizia nonostante i disservizi nonostante l'incuria diciamo basterebbe vederla un po più dall'alto per evitare di tutti i problemi che c'ha le strade ma insomma se tu vedi passi di notte c'è stato un lungo periodo in cui neanche i fori erano illuminati di notte credo per problemi di bollette nel pensa un po poi vai all'estero e vedi che quelle tre cose che ci hanno mica perché voglio fare lo snob però evidentemente come esci dall'italia insomma devi devi fare la tara con le bellezze artistiche tu vedi tutto illuminato quelle quattro cose che hanno sono quando io passo vedo il foro il palatino illuminato ogni volta rischio di fare l'incidente perché mi mi gira a guardare ma tu guardate che roba abbiamo un patrimonio del resto insomma che non ha nessun altro senti parliamo un po di questa questo tuo curioso essere tifoso che mi raccontavi prima che insomma siamo a quello sport io ti faccio le domande ma tu sei un tifoso un po anomalo un po non sono mai stato preso sul serio purtroppo che hai anche smesso di essere tifoso ormai basta parliamo prima della fase precedente allo stop tu eri un tifoso che ti fava il bel calcio sì è che la prima squadra che ho avuto mio padre era della roma mi portò a una partita sbagliando evidentemente che mai fare questi errori era tipo roma inter tipo 5 a 1 finì tripletta di mazzola per l'inter per l'inter io sono uscito ho stato detto papà scusa io non è che c'ho tempo da perdere il padre messi in effetti dico non solo mi compri la maglietta di mazzola quello che ha fatto tre gol la numero 8 certo se ti fai promuovere alla prima elementare io vabbè io ho fatto questo diciamo sforzo che insomma adesso sembra scontato massa gli anni ma è proprio scontato mi faccio promuovere maglietta numero 8 mazzola inizia il campionato cambia numero diventa numero 10 è questa cattiveria io l'ho sentita veramente un'offesa personale e quindi e quindi ho smesso il mio compagno in banco di che squadra sei della lazio anche io sono della lazio basta da domani sono della lazio e quindi mio padre ti facevi corrompere con poco insomma diciamo sì sì non ho mai avuto molto poi certo la lazio degli anni 70 è stata molto molto bella affascinantissima lo scudetto primo scudetto eccetera eccetera però poi a me piaceva anche la roma io non sapevo come dirla sta cosa però poi c'era ciccio cordova che secondo me è stato un giocatore eccezionale misconosciuto bistrattato non sono capito perché non siamo andati ai mondiali del 74 senza ciccio cordova cioè non ho capito ma era un grandissimo poi arrivato falcao altro faro proprio una cosa e quindi spesso io andavo a vedere anche a roma un stadio mi piaceva poi c'era maradona come fai a tifar contro maradona e non so poi è arrivato calciopoli e la calciopoli sono arrivate delle delle partite che insomma erano evidentemente non voglio dire truccare pilotate però insomma era una cosa non credibile e una e due e dieci e venti ho detto sapete che c'è io non mi sono scocciato tanto è tutto talmente è tutto talmente falso ai miei occhi e per carità e questo mi sono scocciato detto senti basta tanto poi mi piace tanto tennis e quindi ti sei proprio buttato sul tennis tranquillamente senza rimorsi senza impianti anzi un saluto al grande fabio foglini che stanotte ha vinto a brisbane a quindi certo lo vedi ti vedi anche il tennis molto televisione non è che giochi così e basta perché spero di imparare di rubare qualcosa capito a foglini giustamente magari insomma l'italiano un grandissimo giocatore avesse un pizzico di eh forse un po' troppo ribelle non lo so cioè raggiù il suo livello il suo miglior tennis lo dovrei esprimere molto di più molto più a lungo perché quando lui gioca al massimo batte chiunque è forse venuto fuori un po' troppo avanti con l'età sai che i tennisti insomma già adesso oramai Zverev già a vent'anni vent'un anni già sono sono giocatori ben avviati che entrano nella top ten forse insomma Fognini è venuto fuori un po' no non è che non è anziano però comunque insomma un po' più avanti con l'età forse non è facile poi detto così chiacchierando su un divano è facile per carità però certo ma poi lo sport a quel livello esatto che sono tante le componenti lui è maturato forse più tardi di altri però raggiunge dei livelli di tennis meravigliosi speriamo che riesca a essere più costante insomma senti io non ti vorrei portare sempre sul calcio perché mi piace questa tua cosa del tennis che è sicuramente anche un ambiente molto differente da quello del pallone e come mi fa paura chiedere come risolverebbe il samurai preferisco chiedere come risolverebbe francesco acquaroli se non so se non è che ti chiedo una ricetta universale però e umilmente come risolveresti tu questi pro questo problema del mondo del calcio infettato dal da questo razzismo sempre più evidenti burrazzisti le discriminazioni territoriali allo stadio le volenze fuori dallo stadio oramai è diventato veramente un ambiente molto pesante dove portare un figlio a vedere una partita diventa quasi quasi un rischio vero esattamente per recuperare come se ne esce con l'aspetto familiare di festa che era lo stadio andare allo stadio io credo che non lo so insomma forse si dovrebbe chiedere all'inghilterra non so se vi ricordate negli anni 80 gli inglesi gli hooligan erano erano a livello veramente di grande pericolo non so come abbiano fatta risolvere arrivò la daccia che fece un esatto hanno risolto quindi le cose si possono risolvere e l'europa e la civiltà occidentale a tutte le le carte in regola e le spalle larghe per risolvere qualunque problemi anche altri diciamo anche perché anche perché calcio insomma muove parecchi soldi è una comunque risorsa importante anche una risorsa importante come tutto lo sport fa parte della nostra cultura della cultura popolare come si può immaginare una vita senza calcio non non è quello è che bisogna piantarla di trattare come dire un po all'antica romana no paneme circenses cioè relegare agli eventi sportivi lo sfogatoio di di tutte le perché così si rovina e così comunque in qualche modo si legittima una certa una certa carica di violenza è vero allora dunque io chiudo lanciando un appello io preparando un'intervista ho cercato francesca acquaroli anche su youtube e ho trovato mi sono ricordato non me lo ricordavo un video che tu avevi fatto a nemo parlando di perché l'italia non era andata ai mondiali ve lo consiglio perché è un video veramente da da sentire in attesa di vederlo su youtube andate al teatro teatro della cometa fino al 20 gennaio esatto il naso di gogol perché è veramente imperdibile ci sarà francesca acquaroli ci sarà tutto il suo team di musicisti insomma su un pacco scenico uno spettacolo veramente da non perdere francesco grazie a te poi tornerai per spiegarci quando uscirà su burra 2 è come se volverà il tuo personaggio lo scopriremo lo scopriremo lo scopriremo solo vivendo un saluto a tutti grazie ancora francesco alla prossima ciao ciao